Beh, innanzitutto vi porto i saluti del sindaco, Andrea Cassani, che aveva un altro impegno istituzionale, non è potuto essere presente, e dell'assessore alla cultura, Claudio Mazzetti, anche lei colta da un malessere, insomma, proprio in questi giorni, niente di grave, ma sapete come vanno queste cose. Beh, innanzitutto complimenti a tutti, anche al presido ovviamente, che essere l'ultimo, però trasmetti sempre delle forze, delle iniziative che permettono sempre a questa scuola di essere sostanzialmente sempre presente su ogni tipo di iniziativa. Diciamo che io sono l'assessore delle finanze, quindi sono probabilmente più arido, diciamo, della compagine assessoriale del Comune di Gallarante, ma ciò nonostante, vi riconosco che, sebbene siano i numeri che possano portare alle mie, diciamo, alla strada di quanto riguarda il mio assessorato, il valore della cultura, ovviamente della lettura, è predominante per i nostri ragazzi, che tramite appunto le letture possono trovare il proprio percorso. Quindi complimenti a tutti e buon proseguimento.